sono due, ho questo fenomeno qua, ho questo, il fenomeno che lui sta attaccato perché lui può passare, perché lui arriva prima, lui può arrivare prima io non vorrei sbagliarmi ma mi sembra una Seat, io non vorrei far parlare a troppo prezzo a me non mi deve far incazzare questo, tanto allora siamo tutti qua come dei bambolotti lui mi viene addosso, mi sta a fare l'astro, con questi fari gialli che fanno tanto vintage non la vendevano con il Xeno, mi facevano il Xeno, fammi capire, no perché lo faccio solo se vende, non mi devi far incazzare, tu devi essere bravo con quel pitale che ti trovi non mi devi far incazzare, non mi devi far incazzare, non mi devi far incazzare, perché io ti faccio fare, mi metti una figuraccia, una figuraccia di quelle brutte, una figuraccia antifatica ti faccio fare, non ti faccio più parlare dai tuoi figli eh, ti rivolgono più parola eh se vederò sto video, oh bambino, ma che figlia di merda hai fatto, eh, perché gli stavi vicino con quei turbo catodici, perché non stavi lontano e ti guardavi quel bel culone, secondo te sto male, mi ha la vista, tutta la vista, non lo fa più eh, me la pensi